Le prime scosse di quella che la coordinatrice regionale Iole Santelli ha definito la congiura degli incappucciati hanno iniziato a fare tremare gli equilibri di Forza Italia. Non è piaciuto affatto a Roma quanto accaduto nella serata di sabato, quando 17 consiglieri comunali, tra cui anche alcuni azzurri, hanno firmato le proprie dimissioni allo scopo di fare cadere il sindaco di Cosenza Mario Chiuto. Ecco perché Gregorio Fontana, responsabile nazionale dell'organizzazione del partito, ha sospeso Egno e Luca Morrone. Per Fontana, Luca, presidente del Consiglio Comunale Bruzio, è colpevole di aver messo in atto comportamenti tali da determinare la caduta dell'amministrazione comunale di Cosenza, convintamente sostenuta da Forza Italia, creando così un grave danno e pregiudizio all'immagine e alla credibilità politica del movimento. Sospeso anche il padre Egno, che per Fontana avrebbe più volte favorito, supportato e indotto atti orientati alla destabilizzazione dell'amministrazione comunale di Cosenza. L'immagine plastica di quanto accaduto è il patto dei potentati contro il sindaco dell'agente, ha commentato Iole Santelli. Ma se Fontana ribadisce il suo pieno e totale sostegno alla coordinatrice, c'è chi ne approfitta per chiedere nuovamente le sue dimissioni, imputando le responsabilità nella vicenda. Si tratta di Nazareno Salerno, consigliere forzista, da tempo irrotta con la Santelli, secondo il quale quanto accaduto evidenzia la mancanza di una guida riconosciuta. Tiziana Bagnato per la C News 24.